Buona serata gentili telespettatori di Teleantenna, eccoci con l'edizione dedicata all'area giuliana della regione, partiamo proprio da Trieste per parlare, lo ricorderete, di quelle molestie a Barcola nei confronti di una minorenne da parte di un afgano ebbene il Tribunale del Riesame ha ribadito che l'uomo deve rimanere in carcere, sentiamo il servizio di apertura del telegiornale Gravi indizi di colpevolezza e pericolo di reiterazione del reato, sono i due cardini su cui il Tribunale del Riesame ha costruito la propria decisione Khan Sinzai Rozzi, il vendotenne afgano accusato di aver molestato il 21 luglio scorso una tredicenne nel mare di Barcola, resta in carcere Il collegio composto dai giudici Filippo Gulotta, presidente, e da Massimo Tomassini e Francesco Antoni non ha quindi accolto l'appello depositato dal difensore, l'avvocato Andrea Cavazzini Il legale si era opposto presentando una nuova memoria alla decisione del GIP Guido Patriarchi che due giorni dopo l'intervento dei carabinieri a Barcola aveva convalidato l'arresto di Sinzai Rozzi Il GIP aveva così fatto proprio la tesi esposta dal pubblico ministero titolare dell'indagine, Antonio Migiani L'accusa, il PM procede per l'ipotesi di reato di violenza sessuale ai danni di minorenne si fonda sulla testimonianza della ragazzina vittima delle molestie, ritenuta credibile anche dalla psicologa che l'ha assistita durante la sua deposizione Nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al giudice Patriarchi il ventontenne, tramite un interprete e accompagnato dal legale di fiducia, si era professato innocente nei 40 minuti lungo i quali si è sviluppata l'udienza del riesame e rimasto in silenzio nessuna dichiarazione spontanea L'avvocato Cavazzini ha chiesto ai giudici di disporre la liberazione del proprio assistito che era arrivato a Trieste per chiedere asilo politico solo tre giorni prima del suo arresto ma il collegio detonò all'istanza del legale, ritenendo di confermare la misura cautelare della detenzione in carcere In quel tardo pomeriggio del 21 luglio scorso, i carabinieri avevano bloccato Sinzairozzi alla fermata del bus poco dopo quando è successo in mare In manette era finito per violenza e resistenza pubblico ufficiale anche il connazionale che era con lui in acqua e con il quale aveva cercato poi di fuggire Parliamo adesso del bilancio comunale, è intervenuto Bertoli anche per il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, lo abbiamo sentito Cosa comporterà l'ugitamento dell'approvazione del bilancio del Comune? Semplicemente abbiamo raggiunto il ridicolo Un bilancio del Comune approvato praticamente a settembre a nove mesi, un bilancio di previsione, a nove mesi con nove mesi passati tenendo conto che a dicembre non si può più fare nulla vuol dire che sia un bilancio fatto solo per due mesi di fatto significa semplicemente che questa amministrazione ha rinunciato a governare, ad amministrare la città è assolutamente impossibile continuare a gestire una città in questo modo vuol dire semplicemente che tutti quei progetti che dovevano essere realizzati probabilmente non troveranno né il tempo né la quantità necessaria di soldi per essere finanziati basta fare solo un esempio l'elenco dei lavori, quello tanto annunciato per il 2015 se si vede poi nel dettaglio di questi lavori saranno tutti lavori che slitteranno se mai partiranno, slitteranno nei prossimi anni 2016, 2017 o forse chissà E con la parte vostra cosa intendete fare? Beh, questo lo illustreremo, io lo anticipo subito in una conferenza stampa che convocheremo questo venerdì 7 agosto dove illustreremo appunto tutte le criticità di questo bilancio ma anche il fatto che siamo al ridicolo continuo a dire, ripeto, un bilancio di previsione portato a settembre era semplicemente meglio forse dire bilancio di previsione 2016 in questo momento questa amministrazione è assolutamente e lo sta dimostrando ogni giorno in bambola ed incapace di amministrare la città Ne avevamo anche già parlato, è stata presentata la nuova edizione di Trieste Is Rock l'intervista al vicepresidente della fondazione CRT Rieste Presidente Del Caro, la fondazione sostiene da tempo questo avvenimento importante come i Trieste Rock Festival? Sì, sono mi pare 12 anni che questa manifestazione è attiva e la fondazione l'ha sostenuta per moltissimi anni anche quest'anno ha dato un aiuto e lo fa perché la fondazione cerca di promuovere tutte quelle che sono le attività della città per aiutare la città quindi questa manifestazione è una manifestazione che ha raggiunto dei livelli di numeri di persone che vengono a Trieste proprio per le cose che organizzano e questo comporta ovviamente una ricchezza per la città perché ci sono turisti, perché gli alberghi si riempiono e quindi in sostanza porta beneficio ma non è solo questo anche i cittadini di Trieste chiaramente trovano in questa manifestazione la possibilità di partecipare piacevolmente alle varie iniziative e sono numerose che vengono attuate